c'hai volato? ma dove? vediamo che è un blocco 5 metri avanti è un attimo qua è un blocco Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info no non mi piace un cazzo di qua no no mi ribalto infatti sto filmando ma un'idea che non mi piaceva max è cotto è cotto cotto